E' la mastodontica opera caduta dell'angelo ad aprire nel cortile di Palazzo Strozzi la grande mostra dedicata all'artista tedesco Anselm Kiefer a Firenze dal 22 marzo al 21 luglio. L'opera che si ispira all'apocalisse vuole spiegare come il male sia arrivato nel mondo e abbia dato origine al peccato originale. L'esposizione ospita 25 opere storiche dell'artista ed altre realizzate appositamente per la mostra fiorentina. Si va davvero dal piombo all'oro come nei processi alchemici di cui Kiefer è grande esperto e esegeta che spesso li cita nei suoi lavori. Questa è l'incredibile varietà di Anselm Kiefer che è capace appunto di parlarci di temi molto alti passando dalla letteratura, spaziando verso la storia, la filosofia, la cabala e tante altre cose appunto anche in grado di colpire tutti anche chi non padroneggia queste materie. Grandi installazioni alcune realizzate appositamente qui per Palazzo Strozzi? Sì, gran parte dei lavori in questa mostra sono appunto realizzati apposta del Palazzo Strozzi, una mostra che è una gestazione come sempre molto lunga. Abbiamo cominciato a discutere di questa mostra già nel 2017, pensate, quindi sono tanti anni che lavoriamo a queste installazioni che devo dire molto riuscite, fatte apposta del Palazzo Strozzi e non è facile chiaramente portare opere così grandi in un luogo così storico, ma questo appunto è quello che facciamo sempre e in questo caso con Kiefer devo dire ce l'abbiamo fatta particolarmente bene. Kiefer è un artista che lavora a molti progetti contemporaneamente, anche di notte spostandosi da un'opera all'altra in bicicletta, come si vede nel celebre documentario di Wim Wenders. Le sue opere sfidano ogni limite e descrivono un mondo in cui gli uomini agiscono in modo incomprensibile, si autodistruggono. Come risposta a tutto questo, l'arte per Kiefer è redenzione, la possibilità cioè di creare un'illusione di bellezza. Quali sono i temi portanti un po' della poetica di Hans Kiefer? Beh, la storia, la filosofia, il nostro pensiero e la materia, quindi l'alchimia, questa trasformazione, questa tendere a elevarsi, questa mutazione. Troviamo questi serpenti che vanno verso l'alto, il serpente cambia pelle, è un simbolo di conoscenza. Troviamo questi girasoli che cambiano, si muovono e molti altri simboli, ma tutti questi componenti materiche che adesso non abbiamo nell'opera alle mie spalle, ma troviamo in altre opere. Queste macerie, queste distruzioni che sono protagoniste del lavoro di Hans Kiefer, che non sono mai una fine ma sono un punto di partenza. Lui che crede nella poetica delle macerie, diciamo così, nella loro bellezza, nella loro capacità anche salvifica. E in un certo senso, ancora parlando della trasformazione della materia, forse la stanza che più simboleggia tutto questo è la stanza dei cosiddetti dipinti irradiati. Quindi opere, quadri, 60 quadri, dagli anni 80 ad oggi, che l'artista in un processo scientifico, alchemico di nuovo, lavora il plutonio, distruggendoli, cambiandoli, mutandoli. Quindi opere che in perenne trasformazione, così come siamo noi, in perenne trasformazione, e per lui le opere non sono mai finite. Un'opera non è mai compiuta, addirittura alcune sono state cambiate proprio ieri, all'ultimo secondo. La mostra si apre con la caduta dell'angelo nel chiostro di Palazzo Strozzi, un angelo che cade su un mondo che appare distrutto. Forse è un riferimento anche alla guerra, a tutte le guerre. Sì, Anselm ha sempre parlato di guerre, di istruzioni e spesso questa sua cifra così stilistica era considerata quasi unica nel panorama dell'arte contemporanea. Oggi purtroppo questi temi stanno diventando più attuali, lo stesso Anselm l'ha notato e dichiarato più volte. Sì, l'opera in cortile ci parla di tutto questo, ci parla della guerra tra bene e male. Chiaramente Kiefer non è un artista manicheo, non vuole prendere parte, anzi proprio in questi angeli ribelli vede noi stessi. Sì, l'opera in cortile ci parla di tutto questo, ci parla di tutto questo, ci parla di tutto questo, ci parla di tutto questo. Grazie.